Siamo arrivati a 10 anni dalla vittoria referendaria sull'acqua del 12 e 13 giugno 2011. In realtà c'è poco da festeggiare per quanto riguarda il rispetto dell'esito referendario in tema di acqua pubblica. I due referendum sono stati completamente disattesi. La norma abrogata che stabiliva la cosiddetta remunerazione del capitale e l'altro referendum che apriva politicamente la strada alla ripubblicizzazione del servizio idrico. Sì, è vero, non è stato applicato l'esito e la volontà dei 27 milioni di cittadini italiani, però diciamo che non è stato del tutto inefficace, insufficiente. E aver votato quel referendum intanto ha significato frenare le privatizzazioni che in quel momento sarebbero potute avvenire in tutti i servizi pubblici, non solo nell'acqua. Quindi l'obbligatorietà per gli enti locali di affidare questi servizi ai privati. E adesso possiamo rimpiangere solo il fatto che la classe politica, il Parlamento, i governi che si sono succeduti, tutti hanno deciso di ignorare quell'esito referendario. Noi abbiamo fatto di tutto per poterlo far rispettare, ma siamo rimasti veramente in pochi. anche se siamo tanti, è una rete in Italia ancora collegata, tant'è che domani andremo a Roma a fare una manifestazione per il decennale dei referendum. Ma adesso abbiamo imparato, credo che sia opportuno, fare più rete anche con altre associazioni, altre realtà che si battono per un futuro ecocompatibile, perché l'acqua è la cosa più importante, ma ci sono altri beni comuni di cui bisogna rivendicare la regolazione pubblica. Credo che questa battaglia, che tra l'altro ha avuto questo esito referendario di questo tipo, debba essere completata. È una battaglia che deve portare al riconoscimento che questo bene, un bene primario come tanti altri, deve tornare sotto un forte controllo pubblico e non deve esserci speculazione alcuna di guadagno, di lucro su queste cose, quindi sull'acqua, sui servizi essenziali per la popolazione, su tutto quello che non è possibile mettere a concorrenza. Mi verrebbe da dire anche le autostrade che noi abbiamo concesso a privati, ma è impossibile creare una concorrenza su tratti autostradali perché non esiste, non è possibile. Quindi tutto quello che non è possibile gestire in concorrenza, in una vera concorrenza, deve essere ricondotto sotto un forte controllo pubblico.